Mi prendo cura di te. E' questo il titolo del progetto lanciato dall'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro della sezione di Sondrio, concretizzato nell'incontro conclusosi lunedì nella Sala Succetti dell'Unione Artigiani di Sondrio. Un'iniziativa durata un anno, sottolinea il presidente di ANMIL Emilio Giacomelli, rivolta a tutti coloro che hanno subito un trauma in seguito di un infortunio in campo lavorativo. Lo scopo di questo progetto era la presa in carico globale dell'infortunato, presa in carico globale in modo psicologico e non solo, socializzante e possibilmente anche lavorativo. Nell'ambito del progetto sono stati realizzati incontri individuali di gruppo, con weekend di socializzazione a Torre dei Basci e Alpalù, dove i partecipanti hanno avuto modo di testare personalmente con grande entusiasmo strumenti quali il monosci e la Jolette, la speciale carrozzina per terreni sterrati, che permette alle persone con disabilità di percorrere i sentieri di montagna. Abbiamo avuto un incontro con la cooperativa Elianto, col Gabbiano, con la Lavops, con la dottoressa Angelini, l'assistente sociale della provincia, con il responsabile dell'agenzia del lavoro dell'ANMIL di Milano, con la dottoressa Lutri. Siamo riusciti ad organizzare questo incontro per parlare di reinserimento sociale in campo lavorativo per i disabili, utilizzando le cooperative agricole e sociali e questo lo prevede la nuova normativa che è uscita in Regione. Partecipanti al nostro progetto si sono trovati bene, gli è piaciuto, abbiamo avuto un ottimo riscontro, ci piacerebbe riuscire a rifinanziarlo perché riteniamo che questo è un primo passo per poter arrivare a stabilizzare questa cosa. Noi riteniamo che una parte fondamentale dell'infortunio che troppo spesso viene dimenticata sia la parte psicologica. Tengo a ringraziare INAI, cofinanziatore del progetto, Valtellina Accessibile e Fondazione Pro Valtellina, ha concluso Giacomelli, senza il cui il contributo non sarebbe stato possibile tutto questo.